Sull'esempio delle altre sezioni, la FIDAPA di Giare Riposto ha presentato alla Sala Romeo il bando del progetto Startup Imprenditorial Femminile, rivolto a tutte le donne la cui età è compresa tra i 18 e i 40 anni. L'obiettivo è quello di promuovere la realizzazione e la commercializzazione di servizi turistici, specialmente quelli legati alle particolarità agroalimentari e culturali del territorio. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro e non oltre il 20 giugno 2014 all'indirizzo e-mail della federazione locale. Oltre alla descrizione dettagliata del progetto, si dovrà inviare in allegato il proprio curriculum vite e una fotocopia del documento d'identità. FIDAPA è suddivisa in sette distretti, sarà finanziato un progetto al distretto, però già la nostra presidente distrettuale, la dottoressa Eleonora Casetta, si è impegnata ufficialmente a cercare enti finanziatori per sostenere il più possibile i progetti presentati tra le diverse sezioni. Il bando è scaricabile dal sito FIDAPA nazionale e da domani dal sito del Comune di Giari. Io ringrazio l'assessore pari opportunità, la dottoressa Piera Bonaccorsi, per aver condiviso pienamente questo progetto. La scadenza del bando è il 20 giugno. Mi auguro che trovi riscontro e che accogliamo finalmente progetti positivi. Grazie a tutti.